Buongiorno ragazzi e benvenuti alla quattordicesima settimana delle bolletone di ottengo Milano Ma il mio anno c'ha da raccolti Milano Fiorentina ragazzi Come si fa a perdere Che peccato Come si fa Il secondo tempo della Fiorentina è incredibile Raffa Bindgull Ma riuscite la verità per oggi fatta la chicchetta Riuscite a ritartonare per oggi La chicchetta è fatta e buona Chilo come c'è chilo femminato Li capito no Chilo femminato Questo ma il mio anno Vi ricordiamo che c'è il gruppo Telegram Aperto e gratis a tutti Trovate il link in descrizione Gruppo Telegram Una volta che c'è stato iscrivetevi anche al Eh capito no Fatte che Tutto iscritti Ma buon già lo capito Siamo subito con il big match Ma fa una chicchetta Ma fa una chicchetta all'inversa Napoli-Inter 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 Ne vincimo la partita Vai Però capito no Noi ci dobbiamo coprire un po' perchè ma fu un blottone Allora noi giocheremo 1x e overino 2-0-2-1 No Fiorentina-Salernitana Attenzione attenzione Questa squadra Salernitana è ripresa Salernitana è un po' di ripresa Fiorentina è un po' di strangolino Però gioca un po' Però questa è una partita Secondo me Uscirà Gol-Gol Candreva-Gonzale Gol-Gol Lecce-Bologna Lecce-Bologna Tu lo sai che mi piace molto Piace Lecce-Bologna Però la nostra città è più fiducia a Bologna Noi giocheremo x2 e overino Ti piace questa chicchetta Ti piace Sassuolo-Roma 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 Roma è quando i giovani è sempre la stessa cosa Giuseppe Sassuolo- Non può essere una partita in selezione Eh no non può essere perché Sassuolo-Roma Sassuolo-Roma A Romeo fa sempre che lo ho letto Capito? Eh capito? Si mette le spalle alla porta cosa Sassuolo-Roma Sassuolo-Roma Gol-Gol Chiudiamo il bollettone con Udinese-Verona Il Verona ultimamente l'ha visto proprio muoia No ma onestamente secondo me Provinati Non ha più la forza l'Udinese Stai un po' rimontando In casa Noi giocheremo la vittoria dell'Udinese Perchè l'Udinese-Verona Vengono il giudizio Il rego da ricco Quattordicesima settimana Ne abbiamo giocate cinque Tutte domenica Napoli-Inter Unix e Overino Fiorentina-Serena Gol-Gol Lecce-Bologna X2 E Overino Sassuolo-Roma Gol-Gol Udinese-Verona 1 Eh Siamo proprio stati sfortunati Siamo stati sfortunati All'estremo Perchè ormai era nostro La soddisfazione La chicchetta Era venuta la cornice Ma oggi ha fatto un piccolo quadretto Ma sei andato a me Domenica Sempre fiducia E in un quadretto A me prendere solo non faccio mu Dai ragazzi Ciao